Canto del mattino In tutto il mondo, ogni uccellino con il suo canto saluta il mattino. E perché canta il sorgere del sole? Per cacciare un rivale o trovare l'amore. Tutti insieme formano l'orchestra che suona ogni giorno oltre la finestra. Estratto da Piano Piano Intorno a Te Giunti Editore Piccole storie per osservare il mondo